Salve com'è vero, sono Zlax e quest'oggi giocherò Stripe, anche sto usando Vex, che è un lungo raggio, cioè, è stato lungo raggio, quindi sono andato solo in bot, che bello, che brutto, non ce ne sono qua, ok, non ce ne sono. Allora, prima verità, spada ai razzi, missili piccoli, che beccano, se beccano l'incrocio, fanno danno, la seconda è, non ha il bersaglio, cioè, quindi posso tirare, cioè, però vi doppia, e chi si avvicina, becca danno, la terza è, come vedete qua, cazzo, cazzo, è cazzo, trova la bastarda. Eh, ne ho due, uno che viene qua, eh, come se cazzo si chiama, caprice, ecco, c'è anche tutorial. Sì, ma, porca troia. Aia. Aia. Sì, ma non vale. E, ecco, uno mi dice. Eee, pistolina magica. Beccato, si, ho fatto danno. Eh, sai che mi serve, sai che mi serve, sai che a me servono, XP. Ok, eccoci. Sì, bastardo. Oh! Ma fanculo il tuo cane. Vieni. No, bastardo, se non... Ah, paracattolo. Me ho pure, perché l'ulti di questo qua è troppo forte, cioè, si trasforma, tipo... Si trasforma, ed l'ulti ti fa danno molto. Vabbè, anche la terza è uno scherzo che, tipo, usa, ti ruba la vita. Invece io... Sono intelligente. No, non ho mana. Ok. Eh, sì, sì, no. Che c'è fa? Eh, dai. Ah, non era là. E l'ho convinto che fosse in altra parte. Ma vabbè. Come faccio vedere? Dai. Poteggi, ti proteggo. Ok. Ah, sì, lui è un support. Ecco. Come sono andato adesso? Che è un tipo di... Cioè, un support. Io non credo che farò tanto anch'io. E l'ulti ci... Boh. L'ulti ci può passare. Eh, dai, quando mi sai? Aspetta. Aspetta. Ah, no. Ma porca, è sempre così? Ah, ma 600 è questo. È sempre qua. Cioè... No, lui è un stunner. La seconda abilità, è un stunner, credo. Credo di sì. L'abbraccio sta qua, per me. Ho sempre un po' di salute. Ho sempre un po' di salute. Ho, avete visto? Cioè... Cioè... No, porca troia, no, bastarda. Ah, un altro... Di merda, figlia di buona donna. Lei, lei. No. No. Non mi ha battuto la kill. Non so che legge. Non mi ha visto la storia che qualcuno, però. Porca troia. Avete visto... Avete visto... Avete visto... Avete visto... Cioè, Ace... Cioè, tipo... Ah, porca troia. Ma c'è una cazzo se è vex, oppure no. Qua poteva uccidere almeno 15 persone. Ma non è vero! Cioè, potete uccidere, cazzo. Basta, ho anche l'altro sub... Eh, doppia kill. Eh... Allora, non so se posso... Dai, una kill. Una kill, ragazzi. Non la kill da tanto. Dai, faccio il giro, eh. Dai. Dai, che faccio il giro. Eh, ma porca troia, sei andata. Ma... Come cazzo, porca troia. Dai. Entenduto. Targeting hostiles. Ma mi cazzo, una morte e un... Eh, tre assist. Ok. Fonco... No! Vieni qua, vieni. Vieni. Sì, mi, sì, mi. No, neanche persone, non è niente. E come stirare persone che... No! Mi è venuto a piacere, ma è una bambina. Cazzo è stolo? Che cosa è stato? Ah, per questo. Dai! Dai, 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 dai. Oh, cazzo. Ah, fanculo. Ah. Abbiamo... Possibilità. No, porca troia, neanche. Ma fai fanculo, non ho niente adesso. Uno poi non stai nemmeno a babbiare. No, no. C'è un'esperanza di vivo, ma no, no, non devo... Non devo pensarci, sai, cioè. Dai, vieni, vieni. Ok, andiamo da... Demasera. Come faccio? Sì, sì, sì. Ok. Dai. Ah, ma c'èmo sta patrò e qua. Dai, dai, dai. Oh, ci sono alcuna a me, no? Ma porca troia, non ho anche una kille! Porca troia! These hands, aiutemi tu! Aiutemi tu Zelda! Siii! Si, cazzo! No, 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 ragazzi! Dove cazzo vado? Morca troia! Tutto contento per la kill Una kill E due morti Che è una cosa che sono Coglione Perché eravamo qua Cioè Sono scavato via In questa parte qua Allora possiamo Compagni Avete Guarda che sei nato fatti fotte In altra parte Va bene Mio Ok Dimmi quando è pronto Dai dai Ho fatto la kill? Ho fatto la kill Dimmi che ho fatto la kill Dimmi che ho fatto la kill Dimmi che ho fatto la kill Vieni qua Ah Ah, ho fatto anche la mia. Sì, no. Sì, no. No, mi serve a me. Ehi, coglione, mi serve a me. Non a te. Come ho detto? Dico, serve a me. Serve a me, ma qua. Ah, è pronto. Ah no, ancora 42 secondi. Oh, oh, oh. Stardo. Entenduto. Dai, mi che ho fatto qui? Dai, dimmi che ho fatto qui, dimmi che ho fatto qui. E mi che ho fatto qui? Entenduto. Ah, porca, no, 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 dai ammazzate roba stardi dai ammazzate roba stardi prendiamo sta cosa così più danni oh meglio è non è che è divertente è rilassante come le donne altre volte quanto abbia questo? quanto face il danno? 139 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 dai 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 che più spesso Ah 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 Aupa poco! Pa... Non mi se me l'accordo. Non. A74 A15 No, 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 no Mazzalo, mazzilo, siiii, yeah bitch, yeah, mi sono medicato puttana, solo un Vex può esistere qua, solo un Vex, e quello sono io. No, mazzurda, mazzurda, mazzurda. aspetta patroia ma che sono molto veloci non sono troppo rete o poter fare il suo tolto google 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 no 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 vado a andare vado a andare vado a troppo vado a parca troia non morirmi non morirmi non morirmi non lo so non lo so non lo so e poi tu niente quanto shankmino shank pappadino ah posso nemmeno qua ragazza dove vai dimmi no fanculo c'è rubato la kill vieni vieni si ma sto cercando di uccidere quel bastardo la eh ma vaffanculo ritirata oddio epica 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 basta vado a vittare il mio compagno no troppo tardi è morto si nooo vieni qua bastardo maledetto era anche pronta per te era pronta per te ok ho fatto a chi siamo 3 a 5 a 3 a 4 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5 a 6 a 5 a 5 a 5 a 5 spero vi piaciuto questa puntata questo video da Zrax è tutto vi saluto al prossimo video scrivetevi commentate se volete ciao ragazzi